ognuno di noi cerca un varco verso altre dimensioni e se vi dicessi che quei varchi sono sempre stati qui a portata di mano benvenuti nel mondo dei solstizi dove la danza cosmica svela due porte sacre la porta degli uomini e la porta degli dei il solstizio d'estate sotto il segno del cancro apre la porta degli uomini un passaggio verso l'iniziazione e i cicli terreni al contrario il solstizio d'inverno sotto il capricorno sblocca la porta degli dei offrendo l'ascensione verso i regni più elevati queste porte simboleggiano il nostro viaggio dall'esperienza umana all'evoluzione divina la porta degli uomini segna il nostro inizio terreno mentre la porta degli dei rappresenta il nostro ritorno alla fonte cosmica quindi la prossima volta che ammirerete un solstizio ricordate state assistendo all'eterna danza tra luce e oscurità tra materia e spirito siete pronti a scoprire quale porta vi chiama